Appuntamento con la storia per la Top Spin che domani alle 20.30 giocherà l'andata della finale Scudetto di Tennis Tavolo in casa della 4-Versuolo Tonoli-Scotta. Un momento di straordinaria importanza per il gruppo del presidente Quartuccio che vuole legittimare una stagione da protagonista resa già indimenticabile dalla Coppa Italia messa in bacheca lo scorso gennaio. Non vogliamo lasciarci sfuggire questo traguardo, afferma il massimo dirigente messinese, per i ragazzi, il tecnico e tutto il team è un'occasione unica. Un evento preparato nei minimi dettagli della Top Spin, al di là degli ingenti costi da sostenere. Il successo nella semifinale play-off contro la Puani a Carrara, infatti, ha caricato l'intero ambiente messinese prontissimo per la finale d'andata che si disputerà a Berzuolo nella palestra comunale di via 25 Aprile. Siamo arrivati a giocarci lo Scudetto inaspettatamente, conclude Quartuccio, ma ci troviamo nelle stesse condizioni dei nostri avversari, che vinca il migliore. Sotto la guida sapiente del tecnico Wang Gong Liang, Marco Rec dal dosso, Giordi Piccolin, Antonino Amato e Damiano Seretti affronteranno nel centro in provincia di Cuneo la squadra allenata da Valentino Piacentini e formata da Jaroslav Smutenko, Daniele Pinto, Alessandro Baciocchi e Mattia Garello. Il match di ritorno è in programma il prossimo 31 maggio alle 17.30 nella palestra della Villa Dante, nel caso in cui le due squadre dovessero giudicarsi un incontro a testa, al di là del punteggio finale, o dovessero chiudere le due sfide in parità. Si svolgerà uno spareggio da disputare il 14 giugno, ancora una volta, in casa della Topspin. Grazie a tutti.